Non si ferma l'attività dei viciri del fuoco di Crutone, una squadra è intervenuta nel tratto della strada statale 107 perché si è incendiato un automezzo, interessato dal rogo un auto articolato adibito al trasporto di bottiglie di acqua potabile, causa del rogo un eccessivo surriscaldamento dei freni che ha innescato l'incendio delle gomme propagatosi al lato destro del rimorchio, compromettendo anche le migliaia di casse d'acqua trasportate. Il tempestivo intervento dei viciri del fuoco è varso alla completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza del sito, sul posto i carabinieri della stazione di Petilia Policastro per gli addempimenti di competenza e personale ANAS per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Non si registrano danni a persone.